ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi parleremo di un'altra power station questa è della all powers e di questo marchio vi ho già fatto conoscere un'altra power station più piccola che vi era piaciuta tantissimo quindi mi hanno contattato per farvi conoscere anche quest'altro modello low powers s 2000 con 4000 watt di picco ma 2000 watt come potenza nominale a 1500 watt ora e ci permette di utilizzare sia la corrente alternata che la corrente continua per chi non sapesse cosa sono questi dispositivi le power station sono degli accumulatori che ci permettono di raccogliere la corrente elettrica e utilizzare quindi la corrente sia di casa con la presa asciuglo 220 volt 50 hertz che la corrente continua quindi per utilizzarlo come un grandissimo power bank che ci permette di alimentare tutti quei dispositivi che vanno utilizzate appunto comprese usb eccetera adesso guarderemo il contenuto della confezione guarderemo il prodotto in tutti i suoi dettagli vi dirò sia i pregi che i difetti vi farò vedere alcuni esempi di quello che ho fatto insomma la valuteremo assieme quindi che abbiamo inquadratura avviciniamo la e osserviamo il prodotto vicino e il contenuto della confezione quindi questa è la scatola con cui vi arriverà all'interno troveremo la power station e alcuni accessori c'è l'illustrazione del prodotto l'unica differenza è sulla colorazione della percentuale di ricarica che sul dispositivo troviamo di colore azzurro qua invece è di colore verde il resto è uguale quindi sulla parte alta troviamo questa bustina con all'interno manuale di istruzioni il modulo per la garanzia tra l'altro si può utilizzare anche con l'applicazione che ci consente sia di monitorarlo che di attivare e disattivare alcune funzioni il prodotto comunque viaggia ben imbottito come vedete abbiamo la scumatura sia sulla parte alta che sulla parte bassa quindi arriverà sicuramente protetto e senza rischio che si possa danneggiare durante il trasporto troviamo questa bustina con l'interno alcuni accessori che adesso vi farò vedere è questa copertura che ci permette di salvaguardarlo nel caso in cui decidiamo di metterlo in esterno per esempio dovesse esserci umilità eccetera ma anche da altri agenti atmosferici polvere eccetera quindi una protezione in più all'interno quindi di questa borsetta troviamo i cavi e portarlo ricaricare sia con l'alimentazione di casa che la ricarica tramite presa accendi sigari ma si può ricaricare anche con i pannelli solari vi farò vedere anche alcune riprese perché effettivamente sono dei pannelli solari almeno quelli che utilizzato io da 400 watt molto rapidi nella ricarica ma adesso guardiamo il prodotto osserviamo da vicino e vediamo come è fatto allora sulla parte frontale abbiamo questo pannello nel quale compaiono sia la percentuale di ricarica espressa tramite queste tacche su questa icona a forma di batteria la percentuale espressa i numeri e poi qua in questo riquadro abbiamo invece i watt sia in entrata che in uscita se noi utilizziamo dispositivo per poter ricaricare qualcosa o alimentarlo avremo i watt in uscita invece se lo stiamo ricaricando avremo quelle l'entrata qua sulla sinistra abbiamo il comparto che riguarda la corrente continua quindi due prese usb tipo c power delivery che permettono una ricarica veloce delle prese usb classiche di tipo a qua abbiamo il tastino per poter accendere il dispositivo quindi premendono una volta se accenderà il display ma rimarrà stand by e attenzione perché anche stand by comunque c'è un minimo di consumo bassissimo ma se invece accendiamo l'inverter in quel caso il consumo aumenta leggermente sempre poco comunque consuma quindi non lasciatelo mai acceso se non lo state utilizzando questo è il tastino invece per poter accendere la corrente continua quindi attivare tutte le prese usb e attivare anche questo coperchio che nasconde la presa accendi sigari che fa un simpatico rumore simile a quello di quando si stacca una bottiglia di vino e potremmo alimentare tutto ciò che va alimentato con quel tipo di alimentazione da questa parte invece abbiamo l'ingresso per poter inserire sia la ricarica in corrente continua tramite il capo che vi ho fatto vedere poco fa quindi l'accendi sigari oppure il cavo per i pannelli solari e utilizzato dei pannelli solari da 400 watt che hanno ricaricato questo dispositivo che aveva inizialmente 70 per cento di carica 69 per cento in due ore quindi dalle 9 e 30 fino alle 11 e 30 con un ingresso visto un po di ombra il sole che non era altissimo eccetera di una media di 200 watt con picchi di 280 watt abbiamo impiegato due ore per raggiungere il cento per cento quindi il 30 per cento in due ore con una carica intermedia medio bassa diciamo è nella media quello che dichiara ovviamente se i pannelli solari sono esposti in modo corretto al sole quindi con 400 watt raggiungeremo con più velocità la carica massima per poter accendere il reparto quindi della corrente continua basterà premere questo tastino e invece se noi premiamo questo tastino a c si accenderà l'inverter che ci darà la possibilità di utilizzare queste prese ok bisogna mantenerlo premuto per qualche secondo come avete sentito alle ventole per uno solo silenziosissime quindi va bene per essere utilizzato in tutte quelle situazioni nelle quali non dobbiamo dormirci vicino per il resto il rumore è semplicemente di ventola un po più rumorosa rispetto alle altre che ho provato finora però non è un rumore assordante sono alla fine sono delle ventole quindi c'è il rumore sia della rotazione che del flusso di aria che passa e questo è il tastino per attivare la connessione con l'applicazione quindi si preme mantenendolo premuto si attiverà quindi questa funzione che ci consentirà di collegarlo tramite il telefonino ve lo faccio vedere subito perché abbiamo la possibilità sia di gestire il dispositivo che di monitorarlo ovviamente non vi faccio vedere l'installazione perché semplicissima basta scaricarla installarla una volta aperta possiamo aggiungere un nuovo dispositivo in questo caso step 1 step 2 ci chiede di attivare il bluetooth ha già trovato il nostro dispositivo cliccandoci si connetterà immediatamente e come vedete abbiamo la stessa le stesse informazioni che abbiamo sul display quindi ricarica 100 per cento nessun ingresso e nessuna uscita abbiamo attivato in questo caso la corrente alternata se io premo da questa parte in contemporanea si spegne se io premo di nuovo si accende e riparte la ventola quindi molto rapido anche nella comunicazione e da qua possiamo monitorare consumi e tanto altro stessa cosa ovviamente per quanto riguarda la corrente continua eccetera ma voi ovviamente vorrete sapere come si comporta questa power station per quanto riguarda la corrente continua è un grande power bank quindi funziona bene tutte le uscite ci permettono di caricare alimentare eccetera ma per quanto riguarda la corrente alternata utilizzando queste quattro prese sciuco sulla parte superiore ci permette di alimentare come ho fatto io per esempio degli elettro utensili ho utilizzato sia una troncatrice quindi una sega circolare ho utilizzato una levigatrice a mouse ho utilizzato anche una rusticatrice per poter fare dei lavori sul legno tra l'altro un progettino che poi vi farò vedere è andata benissimo riuscita a funzionare senza andare mai in sofferenza neanche in blocco quindi mi ha permesso di utilizzarla perfettamente in quel caso ho consumato circa il 25 30 per cento di batteria dopodiché senza averla ricaricata l'ho utilizzata per alimentare una stampante 3d che aveva un consumo che si alternava ma diciamo che orientativamente era attorno a 180 watt e mi ha permesso quindi col 70 per cento di ricarica residua di utilizzare la stampante 3d per tre ore per poi interromperla io per evitare comunque che ci fossero danni sulla stampa quando la stampa quando la poveste non è arrivata al 20 per cento quindi in tre ore ha consumato il 50 per cento con un consumo medio circa di 180 watt ora di preciso non so dirvi perché la stampante 3d aveva dei picchi iniziali di quasi 400 watt a volte scendeva fino a 120 ma c'erano dei picchi più alti quindi un dispositivo da effettivamente per un utilizzo normale che ci permetta fuori casa di poter alimentare macchine del caffè frigoriferi portatili fornellini elettrici eccetera allora può essere molto comoda sicuramente non è una power station da utilizzare costantemente come diciamo dispositivo per poter alimentare casa si può fare nel caso in cui vada via la corrente anzi a proposito ragazzi una volta io in una recensione di un'altra power station ho consigliato di utilizzare un cavo elettrico maschio maschio da inserire nella presa però non sono stato chiaro avete ragione in quel caso è pericoloso perché inserire una presa qua una spina nella presa maschio maschio ci troveremo poi con dei contatti scoperti e questo a quanto pare si chiamava suicide cordone cose del genere perché è pericoloso potete farlo ma dovete farlo solo ed esclusivamente facendo attenzione assicurandovi che non sia nessuno nei paraggi che possa intervenire a toccare quindi tutto ciò che è pericoloso ma va fatto all'occorrenza e va smontato subito dopo non è una prolunga che va lasciata a casa pronta da poter essere utilizzata nel caso in cui ci sia un blackout allora in quel caso si monta si inserisce prima nella presa di casa dopo aver staccato il contatore poi si inserisce qua quando non serve più si stacca prima da qua poi da casa e si smonta questo sia chiaro perché effettivamente quel modo è pericoloso io l'avevo dato per scontato però solo in caso di emergenza solo e sapete quello che state facendo allora va bene altrimenti se avete dubbi visto che effettivamente è una cosa pericolosa non metteteci le mani utilizzate da semplicemente come batteria per alimentare con la corrente continua con la corrente alternata adesso vediamo pure come si comporta con un tester interito i contatti nelle prese fate attenzione anche in questo caso non copiatemi perché io so quello che sto facendo quindi vediamo se con la corrente alternata abbiamo 220 volt 50 hertz e come vedete quindi ve lo faccio vedere così così lo vedete meglio 225 volt e abbiamo 50 hertz esatti scritti qua sopra in alto quindi per quello che dichiarano effettivamente va bene corrisponde e tra l'altro avendo un'onda sinusoidale pura si può utilizzare anche con quegli strumenti delicati che richiedono appunto una corrente che non sia casaccio ma un'onda appunto corretta sinusoidale pura lateralmente abbiamo le prese d'aria voi mi avete visto utilizzarla anche con la sega circolare con la rusticatrice ma fate attenzione perché quando lo utilizzate vicino a strumenti che producano polvere dovete assicurarvi che avendo una presa d'aria a destra e una sinistra che i lavori che state facendo che producano polvere non siano dalla parte in cui l'aria viene aspirata altrimenti entrerebbe tutta dentro da questa parte nella parte posteriore troviamo anche l'ingresso per poterla ricaricare con la presa di casa e nella parte superiore troviamo queste due maniglie che ci permettono di trasportarla con facilità e per quanto riguarda la robustezza della parte esterna le plastiche sono leggermente meno rigide delle altre power station potrebbe essere anche una cosa positiva perché se sono troppo rigida primo urto si rompono potrebbe anche servire per assorbire meglio gli urti quindi evitare che si danneggi esteticamente dal punto di vista comunque dell'estetica mi piace massiccia per quanto riguarda il funzionamento abbiamo visto che funziona bene quindi non ci rimane che guardare le caratteristiche tecniche riportate sul sito del venditore andiamo quindi su amazon sulla pagina del venditore all powers troviamo il nostro dispositivo come vedete abbiamo diverse immagini alcune ci fanno capire gli utilizzi e l'autonomia del prodotto ovviamente carico al cento per cento per poter alimentare in questo caso come vedete per quanto riguarda piano cottura di induzione circa due ore con mille watt di consumo per quanto riguarda invece una lampadina o tutto quello che può essere alimentato con un assorbente di civati abbiamo 160 ore e così via fino a per esempio alla ricarica anche per un auto veicolo elettrico che ci permette di fare circa 12 14 chilometri quindi di backup anche nel portabagagli può essere utile perché ha un'auto elettrica per poter dare quella ricarica in più che gli permette di raggiungere la prima colonnina o comunque tornare a casa può essere alimentato quindi tramite la corrente alternata può essere alimentato tramite pannelli solari oppure possiamo utilizzare sia la corrente continua che la corrente alternata contemporaneamente che sia dai pannelli solari oppure un altro tipo di alimentazione sempre in corrente continua attualmente su amazon si trova un prezzo di 1699 e 99 centesimi quindi 1700 euro grazie quindi alle porte in uscita sia in corrente continua che alternata abbiamo la possibilità di ricaricare alimentare contemporaneamente fino a 11 dispositivi con un massimo di 2000 watt e un picco massimo di 4000 watt per 1500 watt ora poi troviamo anche un elenco delle modalità di ricarica ma vi lascerò comunque link potete andare a dare un'occhiata vi ho dato già un anticipo poco fa è ovviamente l'applicazione del poterla controllare e gestire è scaricabile sia installabile sia sui dispositivi android che sui dispositivi ios abbiamo pure delle informazioni riguardanti la velocità di ricarica in base al tipo di ricarica che stiamo dando che siano solo pannelli che siano pannelli più prese corrente oppure pannelli in base al tipo di watt eccetera solo che non riesco a trovare le informazioni sul tipo di batteria se si tratta di batteria litio oppure litio ferro fosfato comunque eventualmente ve lo scriverò giù nel primo commento e nella descrizione e quindi ragazzi questa è la power station che effettivamente sto utilizzando di più rispetto alle altre che ho utilizzato per qualche giorno ve le ho fatte conoscere poi lo conservate questa l'ho utilizzata più a lungo mi sono trovato bene l'autonomia non è grandissimo abbiamo 1500 watt ora ma non sono nemmeno poche diciamo è perfettamente allineate la maggior parte di quelle che vi ho fatto conoscere è un po di più rispetto a tante altre che avete visto anche qua su questo canale ne esistono anche della stessa un power addirittura enormi da 3600 watt ma vi lascerò il link per vederla sono dotate di ruote sono davvero molto grandi ovviamente in quel caso il prezzo sale sale di tanto ma vanno acquistate in base alle proprie esigenze sono dei dispositivi che sostituiscono in parte l'utilizzo del gruppo elettrogeno che in quel caso per utilizzarlo per esempio in campeggio per utilizzarlo durante la proiezione di un film con il proiettore una serata in serenità nel durante la quale abbiamo bisogno semplicemente di alimentare qualcosa senza dovere per forza inquinare e fare il rumore io sono contento di avervelo fatto conoscere se vi piace andate a guardare il link giù nel primo commento nella descrizione cercherò anche di farmi dare un codice di sconto eventualmente approfittate utilizzandolo non mi rimane che ringraziarvi invitarvi ad iscrivervi al mio canale mentre mi piace cliccando qua giù sul pollice nelle due ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto